Come negli spettacoli migliori alla fine c'è sempre il bis, è così il Borgodano di Volturino si riconferma comuni rifiuti free, a dirlo è la 24esima edizione di Comuni Ricicloni, lo storico dossier di legambiende che preme i migliori risultati nella gestione dei rifiuti che vanta il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Come nelle scorse edizioni il piccolo centro di circa 1500 abitanti si riconferma unico comune in Puglia ad avere questo traguardo molto importante. Una soddisfazione molto importante anche quest'anno per la nostra comunità. Queste le parole del sindaco di Volturino Francesco Di Pasqua.